Ancora una volta le pasticcerie e i maestri pasticceri del Vallo di Diano si distinguono a livello nazionale per la loro qualità. Continuano dunque le soddisfazioni in un settore che costituisce in assoluto uno dei fiori all'occhiello del territorio valdianese. In particolare la pasticceria Delia di Teggiano e la pasticceria Peccati di Gola di Sassano sono salite sul podio nell'albo delle migliori pasticcerie, gelaterie e cioccolaterie d'Italia Top Quality, istituito dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. Si tratta di un riconoscimento che viene attribuito a seguito di un'attenta valutazione da parte di un'apposita commissione che valuta i prodotti offerti, il laboratorio e la zona vendita. La cerimonia conclusiva si è svolta a Massa Carrara ed ha visto contendersi l'ambito premio ben 34 partecipanti provenienti da tutta Italia, che hanno superato rigide selezioni che prevedono parametri precisi, definiti da regole severe relativi a tutti gli ambiti di attività delle pasticcerie esaminate a 360 gradi, dall'organizzazione aziendale al laboratorio alle materie prima di alta qualità utilizzate e molto altro. Alla fine è grande la soddisfazione per le due pasticcerie del Vallo di Diano, che hanno primeggiato. La pasticceria Delia di Teggiano del maestro Domenico Manfredi si è giudicata alla Frusta Top Quality Oro 2019, mentre la pasticceria Peccati di Gola, Silla di Sassano, dei maestri Cono e Franco Tropiano si è giudicata alla Frusta Top Quality Argento 2019. Si tratta tra l'altro delle due uniche pasticcerie salernitane premiate nell'edizione 2019 del premio.